Se vieni di qua, non è meglio, perché lui si vede di meno. Perché si vede di meno lui. A me devi guardare, va bene la macchina, ma di qua viene meglio. A solo io sono io. Se vieni di qua viene meglio. Questa che versione hai detto che è? Chiero. Versione sport? Non sono io, mica la macchina. Ecco che siamo in compagnia del VIP Michel. Oddio. Michel. Dica. Ci pari del suo ultimo film? Ecco, in poche parole, insomma, Ultimo James Bond non era un gran che, era un po' vecchiotto. Perciò hanno scelto di prendere un super figlio. Ma l'ha girata con questa macchina, che cosa ha di speciale questa macchina? A parte che c'è lei alla guida. Oddio, non toccare sto pulsante, mi raccomando, Piero. Quale? Questo qua. Ah, quello lì, che sembrerebbe semplicemente per alzare i vetri, in realtà. No, questo è mitragliatrice, Piero. Dietro, posto di odio. Oddio. Invece davanti ci abbiamo i razzi lasseri, insomma. Invece questo pulsante qua, lo vedi qua, che sembra accendere i sigari? La fa diventare invisibile, praticamente è la cosa del vecchio film. Proprio come nel suo film? Sì, sì, l'abbiamo tenuta così. Diciamo, delle novità lasciamo per la prima. Insomma, è tutta una cosa da vedere. Poi vedrete ovviamente anche me. Quando uscirà il film? Il film uscirà... Io direi a Natale. A Natale? Cristian Messica se ne è andato con le vacanze di Natale, devo arrivare io. E cosa fai? Delle fuoci di Natale? Oh, è tutta una cosa da vedere. Fammi dare un bacio a mio fratello. Ah, quanto ti amo, Piero. Fossi una donna ti sposerei. Fossi una donna io ti tromberei comunque, lo stesso. Ho detto una cazazza, Pio? No, assolutamente. È una cosa che si può dire, vero? Michelle, dopo mi fai entrare lì dentro e ovviamente un paio me le fai scopare, vero? Dato che tutte le donne le hai i tuoi piedi lì dentro. Piero, due in mio paese portano sfiga come numero, due si portano al cimitero, o tre all'interno. Uno o tre, quindi. Senti, facciamo tre e tagliamo la testa al toro, ok? Piero, sono molto poche, se la farei fissere la tua... Eh, io ci provo, che ti devo dire? Nel dubbio.